Altro video riepilogo delle cose più belle dell'anno, del 2023, andiamo con le serie tv. Let's go! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Io sono Marika, nata postmoderna, e oggi parliamo delle migliori serie tv che ho visto nel 2023. Fatemi sapere se le avete viste, cosa ne pensate, eccetera, eccetera. E che cosa avete visto voi di bello quest'anno? Partiamo da una miniserie disponibile su Netflix, ovvero Inside Man di Stephen Moffat, con un fantastico Stanley Tucci nei panni di un criminale uxoricida, ora nel braccio della morte americano, e David Tennant nei panni di un pastore protestante, che già si trova pieno, raso, esondato, fin dalla primissima puntata, perché per l'appunto si troverà a gestire una brutta situazione fin dalla primissima puntata, e la situazione non farà altro che, indovinate un po', peggiorare nel corso della storia fino alla fine. Gli eventi precipitano così rovinosamente per il personaggio interpretato a David Tennant, perché ci troviamo davanti a una miniserie che prevede un grande conflitto morale alla base, ovvero tra seguire i propri valori e più che altro i propri impulsi, e quello di seguire le regole dettate ora dalla società, ora dalle istituzioni che ne fanno parte, tra cui anche quelle religiose di cui fa parte il personaggio di David Tennant, che è quello che mi è piaciuto di più. Il personaggio di David Tennant si trova chiuso nella propria casa, invece il personaggio di Stanley Tucci si trova chiuso in carcere, per me è stato più facile empatizzare con il personaggio di David Tennant, perché ha anche delle vicissitudini un po' più dinamiche e articolate. E mentre i due protagonisti sperano, soprattutto il personaggio di David Tennant, spera che la situazione in un qualche modo si sbrogli da solo, indovinate un po', la situazione andrà sempre peggio, tra momenti grotteschi e anche parecchio drammatici, e momenti umoristici un po' comedi per alleggerire il tutto. Infatti le puntate scorrono che è una meraviglia, perché il genere è sostanzialmente un thriller, ma un thriller molto molto umano, con la presenza di momenti comedi, o comunque momenti umoristici, sempre, sempre, naturalmente dark, black, black comedy, perché per l'appunto siamo nell'ambito del thriller. Quindi una miniserie che si mangia in un weekend anche meno, carina, intrattenente, straconsigliata. Poi andiamo veloci con The Last of Us. Allora, ogni anno c'è una serie HBO a cui io mi devo affezionare, altrimenti per l'appunto mi sento vuota. The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann per HBO, portano sullo schermo, sul piccolo schermo, le avventure di Joel e Ellie in questo mondo post-apocalittico, dopo l'infezione del fungo Cordyceps mutato, che rende le persone aggressive, quasi creature aggressive degli zombie, potremmo dire la trama di The Last of Us in brevissimo, per chi proprio ne fosse a digiuno, come me quando mi sono approcciata alla serie TV, perché per l'appunto io sì, allo senso parlare di The Last of Us, ma non mi ero mai interessata particolarmente. Tant'è vero, vi racconto questa cosa, che quando è iniziata la serie, io pensavo che la ragazza in copertina, interpretata da Bella Ramsay, non sapevo neanche il nome del personaggio, figuratevi, fosse la figlia di Joel. E quindi fosse tutto un racconto un po' alla strada di Cormac McCarthy, che mi è piaciuto, ma non capivo come potesse rendere su piccolo schermo. E invece The Last of Us su piccolo schermo rende tantissimo. Io, come ormai ben sapete, ho visto la serie giocando in parallelo a The Last of Us parte 1, poi mi sono praticamente infognata con The Last of Us, come sapete se mi seguite da un anno, per cui che cosa aggiungere a quanto ho già detto. che The Last of Us su piccolo schermo funziona, funziona alla grande, vi ho fatto un video di analisi un po' più approfondito, con la presenza di piccoli spoiler, per confrontare serie tv e videogioco, quale è riuscito meglio, in quali punti uno è riuscito meglio dell'altro, eccetera, eccetera, quindi c'è un'analisi più approfondita, più articolata in quel video. Cosa aggiungere qui in questo brevissimo riassunto per non stare le ore a parlare di The Last of Us, perché direi che ormai ne avrete una testa tanto di sentirmi parlare di The Last of Us, ma non lo smetterò così facilmente. The Last of Us funziona su piccolo schermo, funziona perché grazie alla scrittura di Mesine e Dragman si offre spesso e volentieri un'altra angolatura sui personaggi, su certe situazioni, ad esempio l'episodio 3, famosissimo, che ha incontrato un parere positivo e molto caldo sia dal pubblico che dalla critica, ma anche angolature diverse sui caratteri dei personaggi e sulla loro evoluzione. C'è stato proprio un lavoro di riscrittura e di riadattamento veramente ben riuscito e ben congegnato con l'aggiunta di angolature e sfumature inedite o che nel videogioco per questioni di medium, semplicemente, non si è riusciti sempre a offrire, a dare, ma banalmente anche perché nel videogioco siamo per lo più nella testa di Joel quasi tutto il tempo, poi iniziamo a giocare anche con Ellie e quindi non vediamo le scene sempre a tutto tondo, ma in modo parziale. A un punto di vista, quello di Joel e quello di Ellie, in cui mi piace stare, però è bello anche che la serie tv abbia offerto diverse angolature e una panoramica più ampia, come ad esempio anche l'introduzione che fa sul Cordyceps proprio all'inizio della prima puntata, quindi anche una panoramica di quello che sta succedendo nel mondo e del dibattito che c'è intorno a questo eventuale virus che poi per l'appunto si diffonde, per cui assolutamente The Last of Us dovevo citarlo. Poi, altra serie tv di cui abbiamo parlato in abbondanza in un video sul canale quando è uscito, è Black Mirror 6, stagione 6, di Charlie Brooker su Netflix. Abbiamo, secondo me, un grande piccolo comeback di Black Mirror, come vi ho spiegato nel video analisi di ogni singolo episodio di questa nuova stagione. Si tratta di una serie antologica che ingloba fantascienza, satira, thriller e distopia, ma anche horror come abbiamo visto in diverse puntate dislocate in diverse stagioni e come abbiamo visto chiaramente in quest'ultima stagione con l'ultima puntata che appartiene a Red Mirror. Io non so se diventerà una nuova serie o se farà parte dell'ombrello Black Mirror. comunque è una serie antologica che si è sviluppata su diversi generi nel corso del tempo con grandi alti e anche altrettanti bassi come abbiamo avuto modo di vedere se siamo arrivati fino a qui seguendo le puntate in ordine cronologico. Black Mirror esce nel 2023 Black Mirror 6 esce nel 2023 dopo 4 anni di pausa da Black Mirror 5 pausa che serviva per ritornare secondo me un po' sui binari per l'appunto per questo dico che c'è stato un bel ritorno non in pompa magna non si è tornati ancora secondo me i tempi d'oro di Black Mirror ma anche secondo me un po' per questioni sociologiche e fisiologiche ma c'è stato un bel ritorno dal punto di vista della scrittura non tutti gli episodi mi sono piaciuti allo stesso modo come per l'appunto avete avuto modo di sentire nel video analisi che ho fatto ci sono stati episodi che mi hanno colpito di più e di meno però devo dire che quest'ultima stagione non mi ha lasciato affatto delusa e mi è piaciuto ritrovare comunque una scrittura quella di Charlie Brooker originale e finalmente che ritorna nei binari ritorna un attimo in sesto dopo questo periodo di pausa per raccontare i orrori e i terrori e le meraviglie della tecnologia e del nostro mondo poi arriviamo ora a due teen drama a cui è stato veramente un piacere tornare ovvero Heartstopper 2 e Sex Education 4 ora qui riassumo velocemente ma per un'analisi più articolata e più approfondita vi rimando al video analisi che ho fatto qualche settimana fa sul confronto tra Heartstopper e Sex Education perché sono due serie teen drama di punta Netflix quindi partiamo da Heartstopper senza spoiler scritta e ideata da Eurus Len e Alice Oseman disponibile su Netflix con episodi della durata di 20 minuti è meravigliosa questa cosa tratta dall'omonima serie di graphic novel di Alice Oseman racconta della storia d'amore tra Nick e Charlie e della loro cerchia di amicizie che fanno parte darsi Tao L eccetera eccetera è un teen drama con un target molto molto giovane in cui si racconta di relazioni e sessualità con un focus su questioni legate al genere all'identità di genere a volte forse in maniera come vi ho già detto in quel video di Daskalica ma di Daskalica rispetto al target di Daskalica per me perché sono un po' fuori target eppure sono comunque stata avvinta e convinta dalla storia perché la cosa che più mi sorprende di Heartstopper è che non ero convintissima di voler proseguire con la seconda stagione perché credevo che la Alice Oseman Fever ormai mi fosse passata ormai conoscevo la storia conoscevo l'impatto che avevamo avuto conoscevo ho letto ho letto le graphic novel ho visto la prima stagione quindi ho detto vabbè la Alice Oseman Fever e in particolare la Heartstopper Fever mi sarà anche bella che passata invece no invece no perché è riuscita ancora con la seconda stagione ad avere un forte impatto su di me nonostante io non sia il target primario di questa serie tv è riuscita a essere da un lato così molto tenera e romantica e dall'altro avvincente perché per l'appunto nonostante questa cosiness di base nel raccontare le relazioni sentimentali ci sono anche dei conflitti umani che coinvolgono coinvolgono lo spettatore questo questo è grazie un ottimo lavoro di scrittura ripeto a volte forse per me un pochino di da scalica però la ricchezza di conflitti relazionali conflitti umani nonostante di base i protagonisti siano incapaci di qualunque tipo di conflitto o qualunque tipo di soprattutto intenzionalità negativa riesce a tenermi avvinta alla storia a darmi comunque good vibes e a scadarmi il cuoricino che fa sempre bene e poi non posso non citare subito dopo Sex Education 4 diretto e scritto da Laurie Nunn per Netflix arriviamo all'ultima stagione di questo teen drama che ci tiene compagnia dal 2019 è una stagione all'anno tutto parte da Otis Milburn il nostro protagonista figlio di una psicoterapeuta che insieme ai suoi amici Eric e Miv decide di mettere su a scuola una una clinica da cui per l'appunto scaturisce tutto il drama che lo rende teen drama quindi conflitti relazionali conflitti umani che rendono la storia per l'appunto avvincente si tratta come vi ho detto dell'ultima stagione una all'anno dal 2019 e cosa posso aggiungere al video che ho già pubblicato qualche settimana fa è un teen drama che sicuramente segue le tendenze le esigenze della comunità queer e non solo segue l'esigenza di parlare di sessualità a tutto tondo la caratteristica principua di Sex Education è rendere esplicite le situazioni sessuali con per l'appunto scene di rapporti sessuali esplicite e mai cringe anzi è di una onestà veramente formidabile che la rende originale e unica nel suo genere perché è riuscita a intercettare da un lato l'esigenza di parlare di questioni sessuali legati alla comunità queer e non solo e dall'altra parte con riuscendo a mantenere una forte una forte personalità una forte estetica una forte poetica che risiede nel continuare a rappresentare i rapporti sessuali la vita sessuale in maniera più onesta e anche per questo più esplicita possibile per quanto riguarda per l'appunto queste scene di sesso di rapporti sessuali si continuano a mantenere nel corso di tutta la serie pur cambiando nel affrontare alcune tematiche sempre nell'ultima stagione si arriva a parlare di sexting che è un argomento piuttosto attuale contemporaneo senza snaturarsi le scene di sesso non sono necessarie la generazione di oggi non vede necessarie le scene di sesso perché per l'appunto viviamo in una società iper sessualizzata ma le scene di sesso di sex education sono funzionali al sviluppo della storia e anche lo sviluppo dei singoli personaggi per cui è una scelta ragionata e come ogni scelta ragionata rende servizio a una buona scrittura che riesce a ingaggiare lo spettatore e poi è una serie che parla di cambiamento ogni teen drama secondo me parla di cambiamento in generale ogni buona storia deve parlare di cambiamento comunque deve cambiare i personaggi i personaggi della storia devono cambiare e sex education sembra dire in modo ancora più esplicito e forte people can go from people you know to people you don't ma non per questioni di odio o altro ma semplicemente per divergenze che incontri nel corso della vita e questo è evidente nella rappresentazione di come in sex education dalla prima stagione all'ultima cambiano i rapporti le relazioni e le amicizie tra i personaggi quindi assolutamente straconsigliata infine una serie bonus la metto come bonus perché non ho ancora finito di vederla ovvero one piece di Matt Owens e Steven Meida su Netflix allora serve che io dica davvero di che cosa si tratta io vorrei partire dalla trama per mettere tutti sullo stesso livello però qua mancavo soltanto io praticamente quella più indietro mi sa che sono io perché non ho mai seguito l'anime con particolare attenzione non ero anche da piccola in realtà quando lo vedevo lo vedevo in tv non mi aveva mai avvinta particolarmente ma ero comunque incuriosita da questa operazione ambiziosa poi se non hai vissuto sotto un sasso diciamo che per forza di cose one piece ti è arrivato in qualche modo riesce one piece riesce a trovare tutti e quindi anch'io che non sono una fan sfegatata di questa storia e dell'anime e del manga sono riuscita a sentirne parlare e ero sono comunque rimasta incuriosita da questa operazione ambiziosa che devo dire non so quanto durerà onestamente perché è una serie piuttosto impegnativa da adattare il materiale narrativo è vastissimo quindi non so quanto durerà questa operazione perché per l'appunto il mondo di one piece è un mondo vasto ma è un mondo che io ho trovato molto accogliente e la serie tv per me è risultata per quello che ho visto finora cioè fino a metà circa un ottimo condensato per chi come me è a digiuno della storia sì ne ha sentito parlare ma non l'ha mai seguita con chissà quale interesse o chissà quale passione perché non ci si può affezionare a tutto allo stesso modo naturalmente poi una cosa che a me un pochino ha respinto dalla visione di questa serie all'inizio è che io ho un terrore atavico possiamo definirlo atavico sì per i live action perché l'80% delle volte non funzionano e il 20% invece se funziona è mediocre e l'abbiamo visto più e più volte invece One Piece devo dire che è una piacevole eccezione quindi a questo punto perché non rendere un live action anche di Naruto perché io lì sarei non dico in prima fila ma quasi o di Yu-Gi-Oh però prima Naruto con Naruto sarei quasi in prima fila per vedere questa operazione quindi premesso che io non ho ancora terminato la visione di One Piece al momento ho trovato due elementi un paio di elementi interessanti per cui appena ho un attimo riesco a organizzarmi proseguirò assolutamente prima di fra tutti il divertimento che offre perché One Piece è un mondo si vasto ma è un mondo accogliente e come ti accogli attraverso il divertimento attraverso l'avventura attraverso scene divertenti divertenti perché è una serie è una serie spassosa e veramente per questo l'ho trovata accogliente e poi altra cosa che al mio occhio analitico è piaciuta molto è che la sto trovando una serie postmoderna ci sto trovando infatti tantissimi elementi delle storie postmoderne contemporanee tra cui ad esempio i personaggi iconici e carnevaleschi nel loro modo di essere di fare di comportarsi e di di presentarsi di vestire anche soprattutto e dall'altra parte a livello di storia una delle caratteristiche principali delle storie postmoderne è la deviazione dal plot principale da cui si aprono parentesi più o meno lunghe più o meno interessanti e più o meno divertenti a seconda del gusto personale le deviazioni sono tipiche è una caratteristica tipica delle storie postmoderne la deviazione dalla storia principale è presente in tantissimi romanzi postmoderni esempio Michael Shabon Thomas Pynchon per citarne solo un paio ma anche Jennifer Egan tra quelle un po' più un po' più recenti e quindi continuerò a vedere la serie divertendomi ma anche cercando di fare attenzione a questi elementi postmoderni che catturano la mia attenzione che da piccola invece non avevo non avevo notato sì comunque sì avevo notato ma non ero riuscita a definirli e a categorizzarli lo posso fare e magari ne riparliamo in un prossimo video fatemi sapere se vi interessa un'analisi postmoderna della serie tv di One Piece non del fenomeno di One Piece perché non mi basterebbe una vita per recuperare tutto il materiale narrativo che c'è quindi questo è quanto per ora e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao